Che la giornata non era delle migliori Pioi l'aveva capito in anticipo per colpa di quell'influenza di Miraias che lo ha costretto a ripensare al tridente dando fiducia a Piazza, uno che proprio non riesce a convincere in Fiorentina. Poi in campo la sua squadra ha iniziato a creare ma non a concretizzare. Infine ci si è messo Vito Rugo con due utenti e cacastronerie, la prima sul gol di l'inglese che ha finito per decidere il match di Santo Stefano e poi quando si è fatto espedere nel secondo tempo. Con il Parma la miniserie positiva dei Viola è così evaporata e per fortuna che c'è subito modo di rifarsi. Nessun contracolpo, dobbiamo essere forti, dobbiamo sapere che il calcio è questo qua, dobbiamo sapere che bisogna stare attenti, determinati, concentrati e comunque non abbiamo neanche il tempo di avere un contracolpo perché fa due giorni giochiamo di nuovo, una partita difficile, un campo difficile, un avversario che ha bisogno di punti ma abbiamo bisogno di punti anche noi e poi faremo il primo bilancio parziale della stagione quindi non dobbiamo subire nessun contracolpo anche perché possiamo aver sbagliato, possiamo aver fatto degli errori tecnici sicuramente sì ma assolutamente hanno messo in campo tutto quello che avevano e questo ci deve fare stare molto positivi e molto fiducioso. Sotto con il Genoa allora sabato 29 dicembre sul campo dei Rossoblu e poi sarà solo Mercato con Piazza che potrebbe essere ceduto anche adesso perché Pantaleo Corvino è intenzionato a ridisegnare un attacco che proprio non punge. Gabbiadini potrebbe essere il nome giusto allora, magari uno dei 30 tiri scoccati verso la porta di Sepe con l'ex Napoli in campo sarebbe finito dentro.